Buongiorno a tutti gli amici di Quotidiano.net, siamo qui finalmente per parlare di Serie A, finalmente si parte dopo lo sciopero e possiamo commentare questa partenza ritardata con il nostro Vice Direttore Beppe Tassi. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora Beppe, la situazione della Serie A è molto particolare, si è parlato tantissimo quest'estate ma in realtà non abbiamo ancora visto un gol soprattutto, non abbiamo visto ancora giocare, si parte con Cesena-Napoli che sarà l'anticipo del sabato, come la vedi? Beh è una partita sicuramente interessante perché il Cesena è stato alla fin fine una delle rivelazioni dell'ultimo campionato e il Napoli come sapete ha fatto quel salto di qualità che l'ha portato in Champions League, è un salto di qualità che il Napoli vuole assolutamente riconfermare e ha portato un giocatore del valore di Inler a centro campo che potrebbe dare a questa squadra una spinta ulteriore. Per il Cesena le ambizioni sono testimoniate soprattutto dall'ingaggio di Mutu, un giocatore di primissima qualità con problemi personali che tutti conoscono e che lo hanno portato durante la carriera a dei momenti davvero difficili. Credo che se Mutu troverà a Cesena una collocazione e un ambiente ideale possa dare davvero a questa squadra una spinta in più. Ovviamente il Napoli parte favorito ma il Cesena è sempre stato la squadra delle sorprese. Quindi secondo te il Napoli può centrare la Champions se il Cesena è l'Europa League? Secondo me il Napoli può centrare la Champions, il Cesena secondo me già con una salvezza comoda avrebbe realizzato un buon campionato. Mentre poi andiamo invece a Firenze dove Fiorentina e Bologna si sfideranno per quella che è una partita, un derby sentitissimo dalle due popolazioni, una partita che vedrà due squadre molto attese. Sì, molto attese anche perché la Fiorentina di fatto conferma in toto la squadra dell'anno scorso e affida a Mihailovic una seconda chance dopo che nel campionato scorso la Fiorentina partì in maniera disastrosa e poi rimediò nel corso del campionato. Senza Jovetic per tutta la stagione, quest'anno Jovetic ci sarà e costituirà con Gilardino un fronte d'attacco e Cerci naturalmente un fronte d'attacco assolutamente temibile e sarà quello il primo vaglio per il Bologna. Il Bologna ha fidato a Bisoli, ha cambiato abbastanza soprattutto in attacco, si è dotato di un giocatore delle qualità di acqua fresca, ha inserito adesso Cone, scusate, Greco proveniente dal Brescia che sta dando ottimi risultati, potrebbe giocare subito insieme a Diamanti con una coppia di rifinitori alle spalle di Di Vaio, anche perché acqua fresca è in un momento ancora di lancio, ancora deve recuperare pienamente dal punto di vista fisico. È un Bologna molto interessante se risolverà i problemi di assetto difensivo. E invece cosa ne pensi di questa Juventus senza coppe? Juventus-Palma, una Juve attesissima, ha inaugurato lo stadio, ecco secondo te può tornare in Champions subito o è un anno di transizione? Secondo me questa Juventus ha molte possibilità di tornare in Champions subito, perché l'allenatore è di assoluta qualità e perfettamente legato all'ambiente juventino così come è Conte. Il perno del gioco che è mancato in questi anni è stato trovato in Pirlo che fino a prova contraria è al momento ancora il miglior centrocampista italiano e il più grande organizzatore di gioco. In più naturalmente la Juventus ha dalla sua l'entusiasmo del nuovo stadio, la voglia di rivincita e sicuramente un giocatore d'attacco del peso e della qualità di Vucinic che le è mancato fin qui. Infine l'Inter che si pone come la più credibile, la più seria delle rivali per lo scudetto al Milan favorito, riparte da Palermo dove aveva vinto l'anno scorso, un Palermo dilaniato dalle azioni estemporaneità di Zamparini. Sì, effettivamente il debutto come tecnico di questo Mangia che viene dalle giovanili del Varese ripropone probabilmente nelle aspirazioni di Zamparini l'idea di Guardiola che ormai ha fatto scuola e quindi il tecnico giovane, il tecnico che viene dai settori giovanili che possa produrre risultati importanti. Glielo auguriamo ovviamente. L'Inter ha una difficoltà rispetto all'anno scorso, naturalmente ha perso un giocatore fondamentale come è stato Eto, però ricordiamo che per tutta la scorsa stagione Milito fu il fantasma di se stesso, se Milito ritorna quello di un tempo, se Forlan naturalmente mantiene le ampie e chiare promesse fatte nel Uruguay, abbiamo visto il valore di questo giocatore, in più c'è Zarate, sicuramente è un Inter che se la può giocare anche se deve conquistare degli equilibri tutti nuovi, anche perché c'è un nuovo allenatore che è Gasperini che dovrà convincere soprattutto la piazza. Bene, grazie mille Beppe. Grazie a voi. E appuntamento per voi ai prossimi servizi sportivi di Quotidiano.net.